Allora, continuiamo adesso con la domanda che ti ho chiesto prima. I bambini che muoiono? Un fratello scrive a sapere i bambini che muoiono, ok? Sì, i fratelli piccoli o anche che non sono nati, che muoiono prima, vanno a vita eterna o sono perduti? Perduti? No, no, non sono perduti. Guarda, primo Pietro capitolo 3, il morire da bambini, da piccoli, dunque morire, cioè non sono né perduti né salvati, cioè non, voglio dire, morire da piccolo non è garanzia automatica di salvezza e neanche di perdizione, ma anche loro dovranno attraversare il processo come chiunque di noi, affinché possano scegliere, cioè di accettare il salvatore e respingerlo, va bene? E guarda, tu hai un link sulla salvezza nel mondo dello spirito, abbiamo insegnato molto su questo nel passato, non è un link, no? Il mondo dello spirito? No, che c'è salvezza dopo la morte. Ah sì, abbiamo parlato in diversi registrazioni. Però hai un titolo adesso, se no lo spiego adesso. Probabilmente in quelli che parlano della salvezza c'è anche questo. Fa niente, te lo ripeto, guarda, primo Pietro 3,19, guarda, leggi. Primo Pietro 3,10. La salvezza dopo la morte. 3,10? Sì, 3,19. Ah, 19. Nel quale egli andò anche a predicare agli spiriti che erano in carcere. Quindi legge anche il 18, per capire meglio il contesto. Ok. Perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte nella carne, ma vivificato nello spirito, nel quale egli andò anche a predicare agli spiriti che erano in carcere. Quindi, capisci, nello spirito, quando fu messo a morte, nello spirito, andò a predicare agli spiriti in carcere. Spiriti in carcere, quelli che erano morti, capisci. Che un tempo furono ribelli. Ecco, lei continua a legge il 20, ma. Che un tempo furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava ai giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, otto in tutto, furono salvate attraverso l'acqua. Ecco, quindi, il passaggio è dal 18 al 20, va bene? Primo Pietro 3, 18 al 20, scrivetelo, fratelli, salvezza dopo la morte. Allora, vuol dire che le persone che sono morte durante il diluvio sono state evangelizzate? Sì. Dopo la morte? È quello che dice qui, sì. Però dovete aspettare che venisse il Messia. Ah. Doveva prima venire il Messia, ed è venuto il Messia. E in questo tempo sono stati in un carcere? In carcere, esattamente. Non all'inferno. Questo è il famoso Ades, no, l'inferno. L'inferno viene dopo, dopo il giudizio, dopo il millennio, Apocalisse, capitolo 20, dopo il millennio, 20, verso 11, giudizio, trono bianco, quelli che non sono salvi in Cristo. Ok, poi c'è un altro, capitolo 4, verso 6, ripete di nuovo. Primo Pietro, 4, 6. Per questo, infatti, è stato predicato l'Evangelo anche ai morti, affinché fossero giudicati nella carne, secondo gli uomini, ma vivessero nello spirito secondo Dio. Va bene, quindi anche dopo la morte c'è la salvezza, per chi l'accetta. Però chi la respinge, no. Però non sembra giusto che uno può vivere come vuole e alla fine, dopo la morte, si salva. Beh, d'accordo, non sembra giusto, però vedi, quando non c'era il Messia, quelli non hanno avuto la possibilità di adesso di accettare il Messia e di respingere, non c'era. Cioè, a tempi di Noè, e quindi prima che venisse Gesù, chi moriva senza possibilità di avere la salvezza di Cristo, diciamo, era più svantaggiato di quelli di adesso, che possono vivere, per esempio, come criminali e un giorno pentirsi, capisci? Invece nel Vecchio Testamento non c'era questa possibilità. E quindi per giustizia di Dio, Dio offre la salvezza del Messia anche quelli che sono vissuti e morti prima del Messia. Che questo non riguarda però il popolo di Dio che seguiva la legge, come Davide, come Abramo, Abramo aveva la legge spirituale di Dio, e diciamo tutti quelli del Vecchio Testamento, da Mosè in poi, che avevano la legge e che la seguivano. Quando questi qua morivano andavano in un luogo dove c'era il popolo di Dio, non è l'Hades, capisci? Avevano un posto paradisiaco in attesa che venisse il Messia, quindi un posto meraviglioso. Allora, tu vuoi dire che i bambini che muoiono prima di essere salvati hanno un'opportunità di ricevere la salvezza dopo che muoiono? Assolutamente sì. È quello che vuoi dire? Sì, 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 assolutamente, anche immediatamente, dopo poche secondi, noi devono aspettare per millenni lì. Dimostrato dal fatto che quando Gesù è morto, in spirito, non devono evangelizzare i morti. Quindi non è che Dio fa differenziazione di persone, così come dà questa possibilità a quelli che sono morti durante i diluvi di Noè, la dà anche a quelli che muoiono oggi, oggi ci sono bambini che muoiono senza possibilità di conoscere il Messia, Cristo, di poter sceglierlo e di poter accettare la sua salvezza. Capisci? Per esempio, guarda, per esempio, un bambino che muore e viene abortito. Un bambino che, per esempio, sono morti sotto la bomba atomica, Hiroshima, Nagasaki. Sì, sì, sì. Nagasaki è un grande centro cristiano. E quindi i bambini che sono morti, donne incinte, bambini di una settimana, bambini di due settimane, morti nella bomba atomica che l'America ha sganciato. I bambini che vengono abortiti oggi, cioè questi qui avranno una possibilità nel mondo dello spirito di accettare Cristo, di respingere esattamente come avviene a noi oggi, capisci? Sì, poi questo fratello continua e dice, se fosse così, che i bambini vanno a vita eterna, perché Paolo afferma che i figli dei santi sono santificati nei genitori, altrimenti sarebbero impuri? Ok, beh, leggevo la scrittura, 1 Corinthians 7, verso 14. Quindi Paolo sta dicendo che i figli dei credenti sono santi. Ok, quindi questo fratello chiede, se fosse così, perché Paolo afferma che i figli dei santi sono santificati nei genitori, altrimenti perché questa differenza? Beh, io credo che questo verso significa, cioè che i figli dei credenti sono santi, io credo che questo significa che Dio normalmente non invia dei figli, se tu sei una coppia di credenti, Dio non vi invierà dei figli, non permetterà alla moglie di rimanere incinta a te, sorella, non permetterà che tu rimangi incinta con te la zizzania. Come, cosa vuoi dire con della zizzania? Cioè figli del diavolo, zizzania, ma ti darà del buon seme, come dice in legge, Matteo 13, guarda, 24, comunque non lo leggo perché è una lunga storia, guarda, è mezzo capitolo qua. Ragazzi, studiate per conto vostro, Matteo 13, 24, fino alla fine. Allora, tu vuoi dire che sei una coppia? Sono una ventina di scrittura. Vuoi dire che se sono una coppia di credenti, anche i figli sono puri? Sì, di solito sì. Normalmente Dio ha una coppia di cristiani e invia figli di buon seme, non zizzania. Che la zizzania, i bambini zizzani sono a creazione del diavolo, non di Dio. Capisci? Lo spiega appunto in questa parabola, Matteo 13, 24. Che è il diavolo che semina la zizzania in mezzo al buon seme, e che Dio dice al finale del mondo che questi zizzani e figli del diavolo saranno bruciati. Capisci? Sì. E poi il fratello dice una cosa che... Capito. Però, scusa, però se sei cristiano, coppia di cristiani, Dio non vi manderà zizzania, vi manderà figli che Dio sa accetteranno Cristo. Capisci? Quindi buon seme. Andiamo avanti. Una cosa che sembra giusta, il fratello dice, non rischiamo di annullare la scrittura con un perbenismo secondo la carne? Perché dice la Bibbia, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E anche, non vi ha dato altro nome fuori di Gesù per essere salvati. Allora, i bambini che sono nati, anche loro fanno parte di questi tutti che hanno peccato. Sì, sì, certo, certo. E senza Gesù non possono essere salvati. No, no, il fratello ha ragione. Anche noi, come i buoni... Noi siamo buon seme, figli di Dio, stiamo andando in cielo. Però anche noi, buon seme, figli di Dio, apparteniamo a questa categoria di essere peccatori, senza speranza, se non forse per Cristo. Anche noi dobbiamo passare attraverso Cristo, va bene? Quindi anche se siamo buon seme, il buon seme... Cioè Dio sa che è destinato a salvarsi perché Dio sa che è buon seme. Però la salvezza sta nel passare attraverso la porta di Gesù Cristo. Infatti lui ti dà l'esempio di Hitler. Quando Hitler era bambino, agli occhi di chi lo guardava avrà certo fatto tenerezza e quanto altro si possa provare nel vedere un bimbo innocente. Ma Dio lo ha odiato fin da quando era nel grembo di sua madre. Per esempio, dice nella Bibbia che Dio ha odiato Esau e ha amato Giacobbe. Esau, fratello di Giacobbe, è amato Giacobbe, è vero? Tanti bimbi sono stati privati della loro vita in passato. Diluvio e le conquiste di Israele con sterminio totale. E anche in futuro, dice in Apocalisse 19... Ci sarebbe Armageddon, sì. Sì, saranno questi sterminio. Armageddon, le distruzioni di Dio contro Armageddon, contro quelli con il marchio della bestia. Allora vuol dire che i bambini non è che sono innocenti. Sono peccatori. Sì, nasciamo tutti morti, morenti. Noi non cominciamo a nascere, non cominciamo a vivere, ma cominciamo a morire alla nascita. Grazie ad Adam e Eva. Se in questo spazio di tempo, appena nasciamo, fino alla morte, non incontriamo, riceviamo il Salvatore, Gesù Cristo, e moriamo. Andiamo, siamo perduti. Però se riceviamo Gesù, nasciamo di nuovo. Vedi, primo Timoteo 2,19, Paolo dice, avendo questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono i suoi. Vedi, poi legge Giovanni 17, 12. Quindi il Signore conosce quelli che sono suoi. Il Signore sa che la zizzania e quale è il seme buono, quali sono quelli che accetteranno Cristo, quelli che lo rispingeranno. La zizzania lo rispingerà perché sono figli del diavolo, 100% destinati alla distruzione, come dice nell'epistola di Giuda. Qui che il calvinismo si base dicendo, vedi, Dio ha creato certi bambini per essere bruciati, ma stiamo impazziti completamente. Ma quale Dio seguono questi calvinisti? Un mostro. Un mostro che crea bambini per essere bruciati. Ma grazie tanto, ma stiamo scherzando. Cioè io credo che è pazzesco credere a questo. L'hai trovato, Giovanni 17, 12. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho custodito con loro che tu mi hai dato, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempissa la scrittura. Capisci? Quindi Gesù, di quelli che Dio vuole, del buon seme che Dio vuole salvare, Gesù non ne ha perso neanche uno. Nessuno del buon seme si perderà, che sia abortito, che muoia dopo pochi minuti della nascita. In un modo o nell'altro Dio si prenderà cura perché Dio è onnipotente e Dio può farlo. Quindi nessuno si perderà di quelli che appartengono al Signore. Però, attenzione, anche loro dovranno passare attraverso il pentimento e la salvezza tramite l'accettare il Salvatore. Come dice Giovanni 14, 16, cosa dice? Io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre, sono per mezzo di me. Quindi che tu sei il buon seme va bene, però devi passare attraverso Gesù Cristo. Sì, continuo il messaggio dal fratello. Lui dice che se i bambini che muoiono vanno direttamente a vita eterna, allora al giudizio uno che ha vissuto due anni vince facile in confronto di chi ha dovuto vivere 60 anni. Però poi nello stesso tempo Gesù dice che il regno di Dio è per chi assomiglia ai bambini. Certo, ma Gesù parlava di tutti i bimbi che sono ancora a livello di innocenza, che non sono ancora responsabili. Quando Hitler era un bambino, Dio lo amava come bambino perché non era responsabile. Quando ha passato la linea di responsabilità che ha cominciato a scegliere tra il bene e il male, allora ha cominciato ad essere colpevole e responsabile. Però un bambino che è perduto, rimarrà perduto per sempre, però quando è bambino, il bambino ha bisogno di amore, gli si dà amore, poi se è un problema suo si sceglierà di respingere la verità e prendere la bugia, capisci? Sì, e poi è possibile che se uno è destinato a salvezza, Dio lo preserva dalla morte finché non abbia ricevuto e creduto al Vangelo. Quindi se uno è destinato alla salvezza, Dio lo preserva dalla morte, dice? Sì, affinché riceve la salvezza. No, non è così. Dio ha la sua salvezza anche dopo la morte. La morte non è un ostacolo per la salvezza di Dio. Primo Pietro 3 e 4 abbiamo già letto. Per esempio pensiamo ai bambini uccisi, alle guerre, come è detto prima, eccetera, morte, eccetera. Quindi non è che Dio, cioè Dio sa che questi sceglieranno Cristo, sceglieranno la fede, sceglieranno la salvezza. Quindi diciamo sono destinati alla salvezza. Quindi Dio non fa, diciamo, preferenze, eccetera. Quindi semplicemente il destino per la salvezza è una scelta nostra, capisci? Noi scegliamo Cristo, però Dio già sa il futuro ed essendo buon seme sceglieremo Cristo, capisci? Sì, sì. Andiamo alla prossima. È un fratello, Raffaele. Grazie a tutti.